Ciao, sono Paolo di Eclissetan.com. Ho preferito metterci la faccia, anche se non sono videogenico, fotogenico, per presentarmi i due prodotti che da anni vendiamo su tutto il mercato italiano e europeo. La nostra intuizione nasce da una semplice cosa. Tagliando una mela a metà, lasciandola su un tavolo all'aria, che cosa succede? Si ossida. Bene, il nostro principio è lo stesso. Tu ti spruzzi il nostro prodotto sul viso e a contatto con l'aria, circa due ore dopo, diventi abbronzata. Non diventi arancione. Sai perché si diventa arancione? Si diventa arancione perché abusi del prodotto, quindi te lo dai tutti i giorni. Il nostro prodotto si dà una volta ogni 3-4 giorni, quindi quando ti sta andando via l'abbronzatura. Ti presento i miei due prodotti. Uno è il Claire, trasparente, e uno è il Noir, che ha un make-up. Non è una cosa chimica o di pittura, è un caramello naturale, quindi tu te lo dai e diventi subito abbronzata all'istante praticamente. Se hai qualche problema a dare bene il Noir, usa un pennellino, come quando ti dai la terra. Te lo metti a posto, esci, vai in discoteca e sicuramente sei la più bella di tutte. Ora, io non ti chiedo niente altro. Ti dico magari di andare a guardare sul nostro sito www.eclissetan.com per guardare le caratteristiche nel dettaglio del nostro prodotto. Sicuramente è un prodotto naturale. Male non ti fa, ti fa respirare la pelle e soprattutto ti fa andare in giro con un colore meraviglioso. Ciao, a presto!